ciao amici oggi andiamo a recensire questo power bank 26.800 mAh della Gachi abbiamo già acquistato qualche prodotto di questa azienda e ci siamo trovati veramente molto bene ora abbiamo visto questo prodotto di 26.800 mAh abbiamo provato ad acquistarlo per vedere di cosa si tratta e vi dico la verità non rende l'idea sicuramente questa con una telecamera ma è un prodotto sbattorditivo per un power bank da 26.800 mAh non parliamo di un power bank pesante che abbastanza leggero tenendo conto della carica che riesce a supportare un 26.800 mAh parliamo di un power bank che riesce a ricaricare un iphone xs un iphone abbastanza grande anche 4 o 5 volte se non qualcosa in più diverse le uscite dall'uscita micro micro usb via l'uscita di tipo c via light night ci sono due ingressi in uscita usb ricaricano 5 volt a 2 ampere sembra fatto bene anche in relazione a quella che dovrebbe essere la resistenza e la consistenza di questo prodotto che purtroppo molto spesso è soggetto a colpi a botte sembra abbastanza abbastanza resistente vediamo anche il funzionamento si accende lateralmente a bello questo particolare anziché esserci dei led è direttamente un display che ci permette di capire quanta carica è ancora presente all'interno del power bank ora è carica al 38 per cento poi una volta collegato andremo a nuovamente a ricaricare con presumo che ci sia nella scatola ecco qui con il classico caretto che attaccato a caricatore a muro permette poi di poter ricaricare il nostro il nostro power bank e come sempre questa questa azienda non si smentisce riuscendoci a dare sempre dei prodotti qualitativamente fatti fatti bene ma anche in relazione a quello che il design in relazione a quello che è la cura dei particolari non non possiamo dire assolutamente assolutamente nulla interessante la porta di tipo c messa lateralmente i vari ingressi frontali e altre due uscite da quest'altra parte della parte frontale del power bank che dire prodotto fatto fatto bene e anche in questo caso non possiamo fare altro che dare cinque stenghi delle anche relazioni al fatto che questi prodotti sono spediti direttamente da amazon e in un giorno pensate questo prodotto l'abbiamo acquistato se non erro di sera la mattina precedente la mattina successiva l'avevamo già presso il nostro negozio quindi veramente un grazie ad amazon anche per la velocità che fornisce nella spedizione degli oggetti che noi acquistiamo su questa meravigliosa piattaforma vi ringraziamo per l'attenzione ci vediamo alla prossima